Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo incontro, permettetemi subito di ringraziare i nostri ospiti, il professor Giulio Giorello, Enrico Terrinoni e Paolo Fagiolo. Grazie mille per essere qui oggi. Per noi è un incontro importante perché è l'inizio, in realtà un secondo tempo di una bellissima collaborazione che è iniziata con il festival vicino-lontano di Udine. Ci teniamo moltissimo a questa collaborazione, già si è avviata Udine, adesso c'è questo incontro qui e speriamo che vada avanti e per questo lascio la parola a Franca Rigoni del festival. Grazie, ha già detto tutto lei. Dunque siamo noi che ringraziamo Pordenone Legge per questa importante ospitalità. Questa collaborazione tra vicino-lontano e Pordenone Legge inizia da quest'anno. Pordenone Legge ha portato a Udine un simpaticissimo incontro con due traduttori che sono anche autori in proprio. Il tema infatti su cui abbiamo deciso di incrociare i nostri interessi è il tema della traduzione. Noi abbiamo deciso e abbiamo proposto a Pordenone Legge di portare qui la nuova traduzione dell'Ulisse di Joyce. Nuova traduzione dell'Ulisse di Joyce che è opera di Enrico Terrinoni, questo bel giovane che vedete qui nel mezzo, giovane ma pieno di gloria perché è un traduttore di molti autori irlandesi e ha compiuto questa traduzione allo scadere dei diritti sulle opere di James Joyce per la Newton Compton. Abbiamo voluto dare questo titolo, Il signor nessuno alla portata di tutti, nel duplice senso che finalmente questa opera che obiettivamente è un'opera difficile, di difficile lettura, di complessa lettura può essere letta dagli italiani contemporanei. Abbiamo invitato a dialogare con lui, intanto Enrico Terrinoni insegna letteratura inglese all'Università Statale di Perugia. Abbiamo invitato a dialogare con lui Giulio Giorello che è un amico di Vicino Lontano e un amico di Pordenone Legge. È un filosofo della scienza, insegna all'Università Statale di Milano e, guarda caso, ha appena pubblicato un libro intitolato Tradimento e tutti sanno che il tradimento ha parecchio a che fare con la traduzione. Leggerà dei passi dell'opera, della nuova traduzione, l'attore professionista Paolo Fagiolo e per questa presenza ringraziamo l'Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe che ci ha messo in contatto con lui e ha favorito questa collaborazione. Io non voglio far perdere tempo ai dialoganti ma chiedo ancora un secondo perché vorrei fare una domanda a questo pubblico. Quanti di voi hanno cominciato a leggere l'Ulisse senza averlo terminato? Bene, d'ora in poi credo, non chiedo a quelli che sono riusciti a finire di leggerlo. D'ora in poi credo che con questa traduzione di Enrico Terrinoni potrete, senza saltare nemmeno una pagina, arrivare fino al delirio erotico di Molly Bloom e a quel suo yes gridato all'amore e alla vita. Grazie e buon ascolto. Statuario. Il pingue Buck Mulligan spuntò in cima alle scale con in mano una ciotola di schiuma su cui giacevano in croce uno specchio e un rasoio. La vestaglia gialla, slacciata, era lievemente sostenuta alle sue spalle dall'aria delicata del mattino. Alzò la ciotola al cielo e intonò. Introibo ad altare dei. Immobile, scrutava dall'alto la buia scala a chiocciola e sgraziato strillò. Vieni su, Kinch! Vieni su, spaurito gesuita! Solenne, avanzava montando sulla tonda piazzola di tiro. Con un dietrofront, benedisse Severo tre volte la torre, la terra circostante e le montagne appena sveglie. Poi, accorgendosi di Stephen Daedalus, a lui si chinò e prese a disegnare veloci croci nell'aria, gorgogliando di gola e scuotendo il capo. Stephen Daedalus, contrariato in preda al sonno, poggiò le braccia sulla sommità delle scale e gelido squadrò quella faccia gorgogliante che scuotendosi lo benediceva. Equina, in tutta la sua lunghezza, i capelli biondi non tonsurati, screziati e color quercia chiara. Buck Mulligan sbirciò un istante sotto lo specchio e subito coprì la ciotola. Si torni in caserma, fece Austero, poi aggiunse con tono da predicatori. È questa, infatti, miei carissimi, la vera Cristina, corpo e anima e sangue e piaghe, musica lenta, prego. Chiudete gli occhi, signori. Un momento, qualche problema con quei globuli bianchi? Silenzio, tutti. Lanciò uno sguardo di lato e fece partire un grave e lungo fischio di richiamo. Poi si fermò un momento in attenzione estatica, i denti bianchi e regolari scintillanti d'oro in più punti. Crisostomo. Due fischi robusti e striduli risposero nella calma. Grazie, vecchio mio, gridò forte. Basta così, stacca la corrente, bene. Saltò giù dalla piazzola di tiro e serio, nel raccogliere intorno alle gambe le pieghe della vestaglia in libertà, squadrava il suo spettatore. Il viso pingue adombrato e la mascella ovale arcigna ricordavano le sembianze d'un prelato, mecenate medievale. Un sorriso gioviale si affacciò pacato tra le labbra. Che presa in giro, disse Gaio. Il tuo nome è assurdo, un antico greco. Nel dirigersi verso il parapetto puntò l'indice scherzando amichevolmente, sghignazzando tra sé e sé. Stephen Dedalus avanzò e annoiato lo seguì fino a metà strada. Poi si sedette sul bordo della piazzola di tiro e immobile lo ammirò appoggiare lo specchio al parapetto, immergere il pennello nella ciotola e spalmarsi la schiuma su guance e collo. La voce gioviale di Buck Mulligan proseguì. Anche il mio nome è assurdo. Malachi Mulligan, due dattili. Ma suona ellenico, non trovi. Saltellante e solare come un vero cerbiatto. Dobbiamo andare ad Atene, ci vieni se riesco a scucire venti sterline a mia zia? Mise da parte il pennello e ridendo con gusto gridò. Verrà l'ingenuo gesuita? Tranquillizzandosi prese a radersi con cura. Dimmi, Mulligan? Fece Stephen in tutta calma. Sì, amore? Per quanto tempo Haynes resterà nella torre? Buck Mulligan volse la guancia rasata alla sua spalla destra. Dio, è tremendo, non credi, disse con franchezza. Che sassone noioso. Secondo lui non sei un gentiluomo? Dio, questi inglesi maledetti scoppiano di soldi e indigestione solo perché viene da Oxford. Lo sai, Daedalus, tu sì che ti comporti come uno di Oxford. Non riesci a capirti quello. Ah, guarda che bel soprannome ti ho trovato. Kinch, la lama di coltello. Si rase con cautela sotto il mento. Tutta la notte a far neticare di una pantera nera, disse Stephen. Dove sta la fondina della sua pistola. Povero lunatico, fece Mulligan. Hai avuto FIFA? E certo, disse Stephen. Deciso e sempre più impaurito. Quaggiù al buio in compagnia di uno sconosciuto farneticante che medita tra sé e sé di sparare a una pantera nera. Hai salvato persone che stavano per annegare. Tu, ma io, non sono un eroe. Se resta, me ne vado. Buck Mulligan si accigliò nel guardare la schiuma sulla lama del rasoio. Saltò giù dal suo trespolo e cominciò a raspare nervosamente nelle tasche dei pantaloni. Merda! gridò Rauco. Salì sulla piazzola di tiro e infilando una mano nel taschino di Stephen disse prestami quel tuo straccio di fazzoletto che devo pulirmi il rasoio. Stephen lo lasciò fare mentre questi estraeva un fazzoletto sporco e spiegazzato e lo metteva in mostra tenendolo per un angolo. Buck Mulligan ripulì per benino la lama del rasoio. Poi, guardando il fazzoletto, disse, lo straccio da naso del bardo, un nuovo colore artistico per i nostri poeti irlandesi, verde mocciolo. Si sente quasi il sapore, no? Montò di nuovo sul parapetto per osservare la baia di Dublino con i capelli color quercia chiara, lievemente scarmigliati. Tocca a me per primo, mi parli capire. Io voglio anch'io ringraziare Pordenone, Legge, vicino e lontano da Udine per questo invito. È sempre un piacere tornare qui. E al piacere di tornare qui, in questa bella città, si aggiungono anche il piacere e l'emozione di risentire l'ouverture di Ulisse. Rissentirla letta a voce alta, come Joyce voleva che le sue pagine fossero lette al suo pubblico. Rissentirla nella nuova tradizione di Enrico Terrinoni. È un po' uno shock per me che ero abituato al solenne paffuto di Buck Mulligan stando alla traduzione di Giulio De Angelis, che probabilmente non fa giustizia a Mulligan perché appunto quest'idea di pigue, solido, dà più quell'impressione di forza di questo straordinario personaggio che è Mulligan, volgare ma colto insieme, intelligente e volutamente grossolano, uomo che gioca sulle ambiguità del linguaggio e della cultura, tipo siamo noi irlandesi, tutti figli di re, per questo siamo tutti repubblicani, che è anche ovvio se sono tutti figli di re, sono tutti uguali, sono tutti repubblicani. Bellissimo inizio che appunto è una cosa che a me prende sempre al cuore quando risento la descrizione della Baia di Dublino vista dalla Torre Martello. E appunto questo dovrebbe essere anche un modo che spinge quelli di voi che hanno iniziato a leggere Ulisses e poi l'hanno piantato a metà o prima della metà, che hanno fatto un po' come Virginia Woolf che diceva ah sì i primi capitoli sono belli poi sono sempre meno belli, poi viene fuori questo proletario irlandese. Ecco chi invece leggerà la versione di Enrico sono convinto che andrà fino alla fine, perché il suo Ulisse e i personaggi e anche il narratore tra le righe raccontano una storia con il linguaggio delle persone di tutti i giorni, vetturini, impiegati, bottegai, alcolizzati, baristi, scommettitori di cavalli, impresari di pompe funerbi, cioè ci restituisce un mondo che è il mondo di Dublino, ma è il mondo di ogni grande città insomma, è il mondo di ogni città che si trova coinvolta nel vortice della storia. Noi qui non siamo neanche tanto lontani da Trieste e credo che ci sia presente Joe McCourt che ha scritto un bellissimo libro cercando di far vedere quanto di Trieste ci sia dentro la Dublino di Joyce. E anche questa è una cosa piuttosto interessante e divertente. Joyce scappò a Trieste dicendo che era stufo di stare a Dublino. Se c'è un punto di Trieste che a me ricorda Dublino dove c'è il canale reale che va verso il porto, sullo sfondo c'è una chiesa neoclassica che sembra con un po' di fantasia il general post office di Sequill Street appunto nella capitale irlandese. Quindi uno scappa via e poi torna insomma, torna con un ritorno che è naturalmente diverso nel tempo e nello spazio da come ha cominciato. E anche una traduzione secondo me è qualcosa di diverso e nello stesso tempo uguale. Prima si diceva c'è qualche cosa di comune tra la traduzione e un tradimento. Non per l'etimologia perché è una falsa etimologia questa traduzione e tradimento. Però c'è sì una sorta di sovrapposizione dello spirito del traduttore a quello del suo autore che in qualche caso produce delle cose mirabili e folgoranti proprio perdendo il modello. Pochi forse sanno che da una traduzione nel latino dell'Odissea, del rinascimento di Andreas Divus, il poeta Ezra Pound si mise dal latino di questa versione dell'Odissea a tradurre in inglese le storie di Ulisse a cominciare dalla calata agli inferi e poi da lì si spezzò questa fedeltà al testo e iniziò la ramificazione folle ma meravigliosa che sono i cantos di Ezra Pound. Non a caso stesso ambiente, stesso tipo di cultura, stesso ambiente. Quello ambiente che piaceva tanto a Tom Elliot quando trovava in Ulisse la versione adatta al Novecento non tanto del poema omerico quanto del grande tentativo fatto da Dante di tenere insieme cielo e terra. Infatti Dante ricompare dentro Ulisse come un punto di riferimento. Costruiamo la letteratura su altri testi letterari, un po' come fanno anche i filosofi che prendono pezzi di un altro autore, li rovesciano, li cambiano, ci riscrivono sopra. Riscriviamo appunto dei testi con degli altri testi. Capita ai matematici, capita ai filosofi, capita anche ai grandi letterati. Ma se noi leggessimo Ulisse soltanto come questa operazione letteraria che fa riferimento ad altra letteratura perderemmo la carne e le piaghe del popolo irlandese. Invece queste Terrinoni ce le restituisce nella sua traduzione di continuo, facendoci appunto capire io direi i sapori, gli odori, le urla del Dublino del primo Novecento che non è un'archeologia perché la storia tragica e epica nello stesso tempo dell'Irlanda è continuata per tutto il Novecento e continua anche in questi giorni. Quindi sotto questo profilo il lavoro che ha fatto Enrico è secondo me veramente una chiave diversa per capire appunto i riferimenti chiave del racconto che si snoda appunto per pagine e pagine che poi apparentemente è solo la storia di una giornata che comincia appunto alla mattina con l'alba sulla Torre Martello, poi dopo c'è Leopold Bloom che lascia casa sua, incontra le persone che deve incontrare per il suo lavoro, fa l'inserzionista pubblicitario, partecipa a un funerale, assiste a un parto, in mezzo c'è tutta una serie di piccoli incontri, litiga con alcuni tipi cupi in un pub malfamato, finisce nel quartiere che si chiama, un'altra si chiama Monto da Montgomery che è il quartiere delle luci rosse, c'è anche una deliziosa canzone dei Dublin che si chiama Monto che racconta che sono stati tutti i clienti delle signore del quartiere a cominciare da Leopoldo II del Belgio, eccetera eccetera eccetera, finché alla fine Leopold Bloom, Ulisse e il telemaco che è Stephen Dedalus, il pallido e pauroso, timido gesuita di cui avete sentito le prime gesta, si incontrano, si chiudono in una sorta di piccolo rifugio che è una taverna di dubbio e reputazione, dopodiché vanno a casa di Leopold Bloom, chiacchierono un pochino, quando è l'alba e il nuovo giorno illumina le guglie delle chiese di Dublino, si allontano e si salutano e poi alla fine Leopold Bloom racconterà tutti i suoi viaggi come si imbade il marinaio alla moglie Molly, la quale lentamente si lascia prendere dal sonno e addormentandosi dice appunto sì, voglio sì e chiude la vicenda che poi riprenderà il giorno dopo e il giorno dopo ancora insomma. In questo senso Ulisse siamo tutti noi insomma, ma Ulisse è appunto ognuno e nessuno in un colpo solo. Adesso io vorrei, detto questo discorsetto iniziale, fare due esempi di come secondo me questa resa che ha fatto Terrinoni è estremamente utile e interessante per ritornare a prendere in mano questo libro. Senza nulla togliere alla bellezza della traduzione di Giulio De Angelis che aveva avuto un enorme impatto quando Mondadori si decise di pubblicarlo nella storica Medusa. Uno dei punti che a me piace sempre sottolineare quando discutiamo un po' di queste cose è appunto l'incontro in questa taverna in cui riduce da una rissa nel quartiere Luci Rosse sono arrivati Daedalus e Leopold Bloom. Si chiacchiera di mille cose tra personaggi, dicevo, dubbi, forse la locanda è nelle mani di uno di coloro che è stato coinvolto negli attentati di Phoenix Park, ci girano feniani, ci girano protestanti arrabbiati, ci girano marinai che raccontano un mucchio di palle e via discorrendo. In questo ambientino curiosamente Giulio De Angelis usava lei nel dialogo tra Bloom e Daedalus, mentre è più ragionevole che in un posto del genere si usi il tu. Lei venga, lasciamo la séance. No, vieni, andiamocene a casa perché è ora di tagliare la corda, insomma. Quindi si ritorna alle cose più immediate, recuperando però degli aspetti che sono secondo me estremamente celati nel linguaggio ma utili per il pulgo per capire. A un certo punto, per esempio, riflettendo sul destino dell'Irlanda e come dire anche la violenza dei sentimenti giovanili, i nostri due arrivano a dire ma i giovani alla fine magari si bruciano subito. E poi segue un commento che viene tradotto da De Angelis come la distruzione dei migliori. Peccato che in inglese sia destruction of the fittest, che vuol dire la distruzione dei più adatti. E qui Joyce sta facendo il verso al survival of the fittest che era lo slogan di tutti i darwinisti sociali. Era il modo con cui veniva raccontata la grande innovazione di Darwin dagli stessi polemisti britannici e veniva, anche questo interessante, discussa dai gesuiti, mica tutti spauriti e timidi, per carità o ingenui, nella cattolica cattolica Dublino, quando si faceva come poi si è fatto talvolta anche nei paesi del socialismo reale. Le vuoi raccontare un autore che non va bene? Benissimo, lo racconti Darwin o magari Carpopper o Freud, nell'altro caso, e poi sopra ci metti la critica. Così il compito del giovane studente, del giovane rampollo dei gesuiti, e Joyce è stato uno di questi, era quello, per esempio, di prendere Darwin, mettere i caposaldi della dottrina darwiniana in stile catechistico, poi farne una confutazione. Grandissimo strumento intellettuale è questo, con cui si può leggere quello che è proibito e intanto si allena l'intelligenza anche all'ambiguità della parola. E allora questa inserzione che viene messa qui, the extraction of the fittest, vuol dire che in un qualche modo la storia degli uomini non segue il cammino della sopravvivenza è il più adatto, ma l'essere il più adatto può essere l'elemento invece di sconfitta. C'è stato Nietzsche che ha scritto delle pagine bellissime proprio su questo modo di leggere il darwinismo e Nietzsche è ben presente negli atteggiamenti di Stephen Daedalus. Ci sono stati altri pensatori che hanno messo in luce questa ambiguità darwiniana. La cosa più divertente è che l'ha messa in luce Darwin stesso. Oggi sappiamo che Darwin non era un darwinista sociale, che Darwin è stato motivato alla sua teoria dell'evoluzione da una grande causa morale, la sua collera contro i razzisti per esempio, la sua collera contro il razzismo, contro ogni forma di discriminazione, che lo spensa a dire, ah sì, i confederati del sud americano dicono che i neri sono una razza specie che viene giù da una scimmia diversa da cui vengono invece i bianchi, invece Darwin li ha fregati tutti facendo vedere che l'albero della vita è fatto a continui biforcazioni e quindi facciamo parte di un'unica rete della vita di cui non soltanto siamo fratelli noi neri, bianchi, gialli e rossi, ma siamo fratelli addirittura con le grandi scimmie antropomorfe. E in questo le allusioni a Darwin che ci sono di continuo in parecchi capitoli di Ulisse, ti fanno capire qual è la grande lettura libera e generosa e tollerante che sta facendo attraverso il suo Roy Bloom, Joyce, di alcuni dei punti alti della cultura del suo tempo. Perché poi appunto la posizione che Joyce assume è una posizione, è stato detto, veramente democratica. Come fare un libro difficilissimo e poi è un democratico? Certo perché la democrazia è difficile, perché l'oscurità di cui lo rimprovera anche la Virginia Woolf e di cui molti l'hanno imputato è l'oscurità che abbiamo dentro di noi, non è un'oscurità cercata per fare un bel gioco intellettuale, è una struttura interna e profonda di noi stessi, delle nostre scelte, dei nostri drammi, delle difficoltà di orientarsi in un mondo che è con sempre più dilacerato. E in un altro degli episodi così belli di Ulisses, la famosa rissa nel pub, Leopold Bloom viene a essere svillaneggiato da un nazionalista piccolo borghese che appunto se la prende contro gli ebrei e Bloom gli risponde ma stai attento, anche Gesù Cristo era ebreo, Dio, il vostro Dio è un ebreo e naturalmente quello esplode in urla e furore e in questo modo Joyce ci ricostruisce in maniera geniale l'episodio del ciclope polifemo e di Odisseo che appunto scappa via chiamandosi nessuno. E qui nessuno c'è, anche in queste battute, c'è un piccolo riferimento ad un certo punto al capitano Nemo, l'eroe di due romanzi di Giulio Verne, assassino e criminale in ventimila leghe sotto il mare, genio benefico e provvidenza nell'isola misteriosa, come dire un Dio nello stesso tempo vendicatore, come piaceva a Calvino Giovanni, e nello stesso tempo un Dio provvidenziale, come piace a non pochi cattolici e benpensanti, ma in realtà questo Dio si chiama Nemo, cioè nessuno e quindi di Joyce si fa toccare uno dei grandi punti anche dell'ateismo contemporaneo di fronte alle sfide della scienza e della politica. Quindi Joyce è un insieme di percorsi, il labirintico che uno può seguire, può abbandonare, può lasciar perdere. Bisogna conoscere la storia dell'Irlanda, sì, proprio come se uno legge Dante, è bene che sappia qualcosa sui guelfi e i ghibellini, eppure ad un certo punto il verso di Dante ci esplode dentro, anche se dimentichiamo bianchi e neri, guelfi e i ghibellini, e così la parola di Joyce si può anche esplodere dentro, senza che sappiamo tutto di repubblicani, nazionalisti, socialisti, orangisti, di Wolftone, di John Mitchell e di tutta la grande tradizione ribellistica dell'Irlanda, che pure ha il suo peso qua dentro, perché Joyce resta un grande ribelle, secondo me, un grande ribelle della lingua, una persona che è stata capace di sovvertire tutti i canoni e poi di ricostruirli e di aprire continuamente il discorso, in modo che questa è veramente, qui aveva avuto una grandissima intuizione, Umberto Eco, un'opera aperta, aperta sull'infinito proprio, è il vero grande corrispondente delle teorie matematiche del Novecento che esplodono nell'infinito, e per chiudere veramente, se no vi annoio, quando prima si è detto si terminerà con il monologo di Molly Bloom, nei giochi di corrispondenza che Joyce si divertiva con i suoi amici a preparare schemi, simboli, corrispondenze omeriche, corrispondenze dantesche, tutta roba che però Joyce la teneva come lo scaffold, come l'impalcatura della sua costruzione, che poi non deve necessariamente comparire quando la costruzione è presentata in pubblico. C'è una cosa curiosa, che il simbolo che viene associato alla figura della donna è l'infinito. E uno si dice, ma com'è mai dell'infinito? Beh, ci sono tanti modi, anche ci possiamo divertire a trovare queste corrispondenze. Io ne ricordo una deliziosa, di un poeta tedesco, che però era ben noto alla cultura irlandese, che è Novalis, il quale non soltanto era un grande poeta, ma era anche un ingegnere minerario, un matematico. E in uno dei suoi frammenti dice, la donna e l'infinito ha una profonda affinità, due punti, e entrambe non si possono elevare al quadrato. Io ho sempre trovato una delle più divertenti battute di umorismo matematico. È vero, non si possono elevare al quadrato. C'è un teorema di Georg Cantor che mostra che l'elevazione al quadrato non delle signore, ma dell'infinito, non dà niente di nuovo rispetto alla forza, appunto, delle totalità infinite. Ecco, Joyce è questa cosa qui, questa capacità di giocare continuamente con i significati, senza mai essere fatto prigioniero in un'etichetta. Joyce non è né darwiniano né antidarwiniano, ma mette insieme le due cose. Forse non è nazionalista o repubblicano, ma non è nemmeno per l'impero britannico. Questo è importante. Perché fuori, al di sopra, si stacca da queste determinazioni e viene fuori proprio la forza della sua ragione impura che supera queste classificazioni. Rendere questo in italiano con una traduzione, un'opera enorme, io ho una grande stima di Enrico, che ha 35 anni, no? Esattamente come Dante quando era a metà del cammino di nostra vita e come Leopold Bloom, no? Che si avvia tra i 35 e i 36, se ben mi ricordo, e quindi c'è forse anche qui una corrispondenza curiosa che senza dubbio avrebbe divertito James Joyce. Grazie. Io ringrazio vicino lontano, il festival Pordenone Legge, il professor Giorello, l'attore, per questo splendido incontro. volevo dire due cose, prima di lasciare la parola al nostro attore che ci reciterà altri due passi dell'Ulisse e poi magari entrerò nel merito della traduzione. È stata fatta non solo da me, ma anche da Carlo Bigazzi, il revisore di questa traduzione. E l'altra cosa che mi fa pensare, il 35 anni, anche De Angelis, autore della pionieristica traduzione precedente, importantissima, aveva 35 anni anche lui, quindi insomma questa è una sincronicità strana. Io lascerei la parola a te e poi magari dico qualcosa sulla traduzione. Ci leggo un passo dal quarto episodio in cui si presenta Bloom, il personaggio principale, e poi dal nono episodio siamo nella biblioteca in cui ci sarà Steven che parla di scelta su Shakespeare. Con un calcio spalancò la porta instabile del cesso. Meglio fare attenzione a non sporcarmi i pantaloni per il funerale. Entrò, abbassando la testa sotto la bassa piatta banda, lasciando la porta socchiusa, tra il fettore dell'imbiancatura di calce scoperta di muffa e le ragnatele vecchie, si slacciò le bretelle. Prima di sedersi, sbirciò da una fessura per vedere la finestra dell'appartamento accanto. Il re era nella sua tesoreria. Nessuno. Semi-accovacciato sul seggio defecatorio, aprì il giornale, girando le pagine sulle ginocchia nude. Qualcosa di nuovo e di facile. Non c'è fretta. Trattienila un po'. La nostra storia vincitrice, il colpo magistrale di Macham, scritto da Mr. Philippe Beaufort, del Club degli Spettatori di Teatro Londra. L'autore ha ricevuto il pagamento di una guinea a colonna. Tre e mezzo, tre sterline e tre, tre sterline, tredici e sei. Trattenendosi, lesse con calma la prima colonna, poi arrendevole e resistente allo stesso tempo, cominciò la seconda. A metà racconto, con le ultime resistenze che cedevano, permise alle sue viscere di liberarsi in tranquillità, mentre continuava a leggere, leggendo ancora con pazienza, la leggera stipsi di ieri del tutto passata. Spero non sia troppo grosso, se no mi tornano le emorroidi. No, è il giusto. Così. Ah, stitico. Una pasticca di cascara sagrada. A volte è la vita. Non lo commosse, né lo toccò, ma era qualcosa di agile e ben fatto. Stampano di tutto oggi. Stagione banale, continuò a leggere, seduto in tranquillità sopra il suo tanfo che risaliva. Certamente ben fatto. Macham pensa spesso al colpo magistrale con cui ha sconfitto la strega che ride, la quale ora comincia e finisce con la morale. Mano nella mano. Intelligente. Diede un'altra occhiata a quanto aveva letto e nel sentire il proprio liquido fluire in tranquillità, invidiò benevolmente mister Bofois che l'aveva scritto ricevendo come pagamento tre sterline tredici e sei. Con un raccontino potrei farcela. Di mister e missis L.M. Inventarmi una storia per qualche proverbio. Quale? Tempo fa ero solito annotarmi sul polsino ciò che diceva nel vestirsi. Non mi piace quando ci vestiamo insieme. Mi sono tagliato nel radermi. Mordersi il labbro inferiore mentre si aggancia la gonna. Le prendevo il tempo. 9.15 Roberts ti ha ancora pagato? 9.20 Come era vestita Greta Conroy? 9.23 Come mi è venuto in mente di comprare questo pettine? 9.24 Mi sento gonfia dopo aver mangiato quel cavolo. Una macchia di sporco sotto la sua scarpa di vernice. Strofinarle entrambe vigorosamente a turno contro la caviglia della calza. Il mattino dopo il ballo di beneficenza quando l'orchestra di May suonò la danza delle ore di Ponchielli. Spiegalo. Le ore del mattino il mezzodì e poi la sera vicina poi le ore notturne lavarsi i denti. Era la prima notte. La sua testa danzava le assicelle del ventaglio ticchettanti. Quel boy l'ha ne messo bene i soldi ce li ha perché ho notato che ha l'alito profumato danzando allora non serve cantichiare fai un'allusione strana musica quell'ultima sera lo specchio era in ombra strofinava energicamente lo specchietto con la maglia di lana contro la sua tetta piena che si dimenava sbirciandoci dentro rughe agli occhi non dava risultati per qualche ragione ore serali ragazze in organze grigie ore notturne poi nere con pugnali e mascherine per gli occhi idea poetica e rosa poi dorato poi grigio poi nero e anche realistico giorno poi la notte strappo via di netto metà della storia vincitrice e ci si pulì poi tirandosi sui pantaloni si riallacciò e si abbottonò spinse indietro la porta malferma del cesso ed emerse dalla semi oscurità nell'aria nella luce luminosa alleggerito e fresco nelle membra controllò accuratamente i pantaloni neri le caviglie le ginocchia il retro delle ginocchia a che ora è il funerale? meglio guardare sul giornale un crepitio e un cupo ronzio nell'aria dall'alto le campane di George Church battevano l'ora freddo ferro cupo e fragoroso meno un quarto ancora lì gli armonici seguivano per l'aria terzo povero Dignam e che carattere Iago esclamò John Eglinton impavido alla fin fine era Gione d'uma figlia o era d'uma per dopo Dio quello che ha creato di più è Shakespeare l'uomo non lo delizia neanche la donna disse Stephen ritorna dopo una vita di assenza in quel luogo della terra dove era nato dove è sempre stato da uomo e da ragazzo un testimone silenzioso e lì il viaggio della sua vita si compie e pianta il suo albero di gelso nel terreno poi muore il moto si arresta Becchini seppelliscono Amleto Père e Amleto Figlie infine un re è un principe in morte con musica di fondo e che importa se è assassinato e tradito pianto da ogni cuore fragile e gentile visto che danese o dublinese il dolore per i morti è l'unico marito da cui ci si rifiuti di divorziare se vi piace l'epilogo fermatevi a osservarlo il prospero prospero il buon uomo ricompensato Lisi il bocconcino d'amore del nonno e lo zio Ricci l'uomo cattivo portato via dalla giustizia poetica fin dove vanno a finire i negri cattivi finale a effetto scoprì nel mondo di fuori come fosse vero quel che nel mondo di dentro era possibile Metterling spiega se Socrate oggi uscisse di casa troverebbe il saggio seduto sul suo uscio se Giuda uscisse stanotte i suoi passi lo condurebbero a Giuda ogni vita è fatta di molti giorni uno dopo l'altro camminiamo attraverso noi stessi incontrando ladri fantasmi giganti vecchi giovani mogli vedove fratellastri in amore ma sempre incontrando noi stessi il drammaturgo che ha scritto il foglio di questo mondo e l'ha scritto sbagliato ci ha dato prima la luce e due giorni dopo il sole il signore delle cose come esse sono che i più romani tra i cattolici chiamano Dio boia Dio giustiziere è senza dubbio in tutto e per tutto in tutti noi stalliere e macellaio e sarebbe anche mezzano e cornuto se non fosse che nell'economia del cielo predetta da Amleto non vi sono più matrimoni uomo glorificato un angelo androgino moglie di se stesso grazie Paolo per questa lettura appassionante e vorrei dire qualcosa sulla traduzione in sé iniziando raccontandomi un aneddoto molto veloce una cosa che mi è accaduta qualche tempo fa in un consesso di traduttori di traduttori che dovevano valutare i progetti di traduzione letteraria per l'Unione Europea siamo tutti insieme qui traduttori ci si presenta e ognuno dice la sua dice la sua storia racconta le cose che ha fatto mi hanno chiesto appunto cosa hai tradotto e io ho detto ho appena fatto l'Ulisse al che una traduttrice baltica del Nord Europa mi ha detto ma perché l'avete tradotto così tardi è uscito nel 22 e ho detto no c'era già una traduzione precedente e la sua risposta è stata un'altra domanda ma non andava bene quella traduzione e io ho risposto no andava molto bene è una traduzione pionieristica ben fatta e le ho anche detto che ce n'è un altro in arrivo l'anno prossimo ci sarà la traduzione di Celati per Enaudi e poi mi sono chiesto come mai il perché di questa domanda così ingenua come se un testo meritasse una sola traduzione quando invece un testo merita tante traduzioni e un'opera aperta come Ulisse ne merita innumerevoli Ulisse è un'opera plurale che dovrebbe essere tradotta il più possibile perché tante traduzioni riescono a ricomporre forse parte del messaggio originario io amo pensare alla traduzione come a un prisma che rifrange la luce e la scompone la luce dell'originale dell'originario che viene scomposta in tanti rivoli e la traduzione nel rendere un testo è una resa nel duplice senso di arrendersi e rendere cioè a volte ci si arrende la traduzione scompone il significato iniziale e lo preserva per quanto può ma è chiaro che non può paragonarsi all'originale e per questo che tante traduzioni devono essere benvenute e le traduzioni non devono in qualche modo come è stato detto mandare in pensione quelle precedenti quando uscì questa traduzione fatta da me da Bigazzi un giornalista scrisse sarà abbastanza difficile mandare in pensione la traduzione De Angelis e io trovai anche questo commento non troppo arguto perché innanzitutto la traduzione come sapete non ci si va più in Italia dopo la riforma Fornero e secondo perché le traduzioni non servono a quello non servono a dare una versione autorevole definitiva servono a rendere un'interpretazione e i testi del modernismo ma insomma immaginate Dante è tradotto in tantissime versioni i testi e le opere più sono complesse più meritano tante traduzioni differenti allora io nel lavorare a questo testo che mi ha tenuto impegnato per quasi diecimila ore negli ultimi anni non ho mai avuto l'intenzione di proporre una traduzione definitiva ma semmai di rendere quello che avevo compreso del libro avendolo studiato per tanti anni a Dublino Giulio Giorello prima parlava di ritorno ha inserito il tema del ritorno e io amo pensare alla traduzione come alla metafora di un ritorno tornare su qualcosa che dovrebbe esserci familiare qualcosa che dovremmo conoscere un luogo uno spazio culturale semiotico che dovremmo conoscere e l'Ulisse è una grande metafora di ritorno l'Ulisse è un libro di ritorni dal punto di vista del plot è un ritorno a casa se vogliamo i personaggi il personaggio principale Bloom dopo le sue peregrinazioni torna a casa dalla moglie sapendo che lei l'ha tradito e non torna per vendicarsi torna per conquistarla e quindi è un segnale quello che dà di profondo umanesimo l'Ulisse è un ritorno all'Irlanda a quell'Irlanda che Joyce esule volontario non aveva mai abbandonato tutti i libri di Joyce nonostante fossero scritti principalmente a Trieste a Zurigo a Parigi non si discostano mai dall'Irlanda e è per questo che la matrice irlandese è così importante nel testo e va preservata e poi l'Ulisse è un ritorno alla vita reale è un ritorno alla vita vera dopo se vogliamo tutta una serie di illusioni e disillusioni di un vittorianesimo incostante di un vittorianesimo che aveva portato alla letteratura un finto realismo un realismo teleologico un realismo che ci produceva delle storie che sembravano reali Joyce invece ha in mente di registrare la realtà secondo per secondo minuto per minuto e c'è stato anche uno studioso che tra l'altro ha fatto un calcolo che se si leggesse l'Ulisse a passo normale lo si concluderebbe in 18 ore che poi sono le ore che il testo occupa nella giornata del 16 giugno di Bloom quindi per quelli di voi che non l'hanno finito sappiate ci vogliono solo 18 ore a leggerlo questo testo quindi il problema fondamentale per una persona che lo traduce oggi e che lo tradurrà domani è anche il confronto con quello che è il principio di autorità su cui si fonda non solo la nostra Repubblica come sapete si pensa che un testo sia stato tradotto in maniera ufficiale autorevole e quella deve essere la versione la vulgata quando invece con la traduzione non funziona così la traduzione è un qualcosa di molto diverso Giordano Bruno in una citazione di John Florio a prefazione della traduzione dei saggi di Montaigne nel 604 John Florio mette a Giordano Bruno in bocca queste parole translation is the mother of all science la traduzione è la madre di tutte le scienze che vuol dire la madre di tutte le scienze all science qui significa non la scienza scienza esatta significa il sapere la traduzione è la madre del sapere perché il sapere secondo John Florio e secondo Giordano Bruno stando a questa citazione sarebbe il tentativo di divulgare di democratizzare di rendere leggibile comprensibile un testo la traduzione nasce per motivi pragmatici rendere leggibile un testo da persone che non posseggono le capacità linguistiche per leggere originale questo è il concetto della traduzione e si applica a tutto dalla Bibbia dai testi scientifici e i testi letterari allora una traduzione che deve in qualche modo rendere accessibile e possibile un libro in un'altra lingua in un'altra cultura deve per forza essere una resa in tutti e due i sensi deve rendere ma deve anche arrendersi deve sapere che è una resa parziale del testo e quindi l'autorevolezza è un concetto che non mi appartiene per quanto riguarda la traduzione e io spero spero che ne verranno altri oltre a quella di Celati che è in arrivo proprio perché tramite le tante traduzioni si potrà arrivare un testo ora è stato detto che questa nostra traduzione nostra appunto perché io di Bigazio non parlo col plurale maia statis è più democratica della passata della precedente io non so se questo sia vero o no so però che è probabilmente una traduzione che ha delle scelte di registro più colloquiali nel senso che come diceva Giulio io faccio dare del tu a Bloom e Steven ma anche a Bloom e gli altri discorsi fra Bloom e gli altri personaggi quando in passato si dà uno dell'ella del voi e quindi c'era un senso di distanza io percepio perché faccio questa cosa per democratizzare l'Ulisse no perché percepisco che il testo inglese è un testo colloquiale allora si arriva a questo punto a una croce fondamentale ovvero la percezione di Ulysses come opera letteraria inarrivabile inaccessibile è l'Ulisse un'opera così difficile così complicata che può essere letta solo da un gruppo di adepti di specialisti che si riuniscono in gruppi più o meno come gli alcolisti anonimi per discutere dei propri problemi di comprensione o è l'Ulisse un libro che deve liberarci dalle catene che abbiamo di lettori la sua complessità in altre parole è una complessità che serve ad allontanare il lettore oppure a dirci che l'esistenza è complessa che la vita stessa è complessa che l'oscurità appartiene a noi stessi come diceva Giorello e come dice Steven stesso darkness is in our soul l'oscurità nelle nostre anime allora io credo che la difficoltà dell'Ulisse sia più o meno un totem o meglio un tabù che va in qualche modo affrontato l'Ulisse è un testo difficile che richiede tempo che non può essere letto sotto l'ombrellone d'estate ci si avvicina all'inverno quindi c'è un'altra possibilità per cominciare a leggerlo credo che sia un testo che va letto va letto allo stesso modo in cui vanno lette le opere di Shakespeare allo stesso modo in cui vanno lette le opere di Proust perché è un libro che compone e ricompone il nostro presente che ci spiega anche qualcosa del nostro futuro di cosa potremmo di dove potremmo andare a finire e ci spiega anche della democrazia con cui dobbiamo confrontarci non come uno status quo non come qualcosa che noi abbiamo ma come qualcosa da raggiungere la lezione la grande lezione di Joyce umanista è questa non creiamo compartimenti stagni fra le persone Bloom tratta allo stesso modo l'intellettuale Steven e il povero cieco che aiuta ad attraversare la strada tratta allo stesso modo il vetturino e il professore e Joyce stesso per quanto ci dicono i resoconti biografici dei coevi che sono stati poi dimenticati da una critica specialistica che ce l'ha allontanato quest'autore l'ha allontanato dal lettore comune Joyce stesso era un autore che non privilegiava le eliti intellettuali che quando uscì Lulis non andò a regalare una copia a un professore d'inglese alla Sorbonne e andò invece al suo ristorante preferito a regalare al suo cameriere preferito perché sapeva che quel cameriere era il lettore di Ulisse non lo specialista e quando un turista andò a chiedere di baciare la propria mano la mano di Joyce perché aveva scritto Lulis voglio baciare la mano che ha scritto Lulis e Joyce ha detto per carità questa mano ha fatto un sacco di altre cose è meglio se non la bacia allora il messaggio che va reso che va restituito è questo che Lulis è un testo sicuramente ci può spaventare sicuramente prevede un approccio complesso stratificato ma è anche un libro che ci parla di noi che ci parla di noi stessi che ci dice delle nostre storie a me piace ricordare molto spesso questo grande traduttore il primo traduttore dell'opera completa di Shakespeare Gabriele Baldini che ha scritto anche molti libri interessanti su Shakespeare su Webster su Melville e lui quando parla in questo testo fondamentale che è il manoletto shakespeariano quando ci spiega la parabola di Shakespeare ci dice come mai un autore come Shakespeare che parte dal titolo andronico che parla di mani mozzate di lingue mozzate che è truculento arriva poi a scrivere Macbeth o Tello come mai in questi 20 anni si passa da uno stile drammaturgico che andava alla ricerca del sensazionalismo e si arriva fino a una una metafisica della parola e lui ci dice Shakespeare evolve evolve nel tempo nel primo periodo questo lo dice Baldini nel primo periodo della sua vita Shakespeare parla di se stesso di quello delle sue aspirazioni del suo modo di fare teatro da Amleto in poi Shakespeare parla di noi parla di noi lettori non parla più di se stesso fa lo scarto arriva a superare il narcisismo arriva a comprendere un'ottica globale ed è questo che secondo me la traduzione deve fare la traduzione nel suo intento divulgativo e democratico si deve porre come strumento di di equità come strumento come tentativo di raggiungere l'altro che non conosciamo nelle parole di Amleto stesso di raggiungere un lido che non ci è che non ci è prossimo di andare oltre e di andare oltre noi stessi e vedete da voi che questo concetto non può andare d'accordo con quello di autorità ora io non ho molto da dire sono venuto qui per ascoltare Fagiolo e Giorello quindi vorrei passare la parola al professore e chiedere se è d'accordo con questa idea insomma con questo che sto dicendo grazie caro Enrico per tutte le belle cose che hai detto in particolare per la citazione di quello che è il mio filosofo preferito che è Giordano Bruno che appunto è colui che ha saputo cantare in termini filosofici la grande struttura dei cieli che si dispiegano all'infinito grande autore tra l'altro Bruno sempre presente in Joyce che se lo leggeva nei suoi periodi italiani che lo commenta che lo usa addirittura chissà se John Wise Nolan uno dei personaggi che interviene un po' a calmare gli spiriti durante l'orgia nel bordello di monto non ricordi il saggio nolano John Wise Nolan e i riferimenti a Bruno sono continui anche qui sono materiali di narrazione sono impalcature che uno può capire o non capire questo è indipendente ma è come modellano quel personaggio quello quello che conta e sotto questo profilo la traduzione è veramente importante perché con la traduzione nasce la civiltà e con il piacere di tradurre che i popoli cominciano a capirsi e semplicemente smettono di scannarsi noi abbiamo nella nostra tradizione culturale una storia che ci verrà contata in un modo un po' fazioso che è la storia dell'attore di Babele il signore punisce i mesopotamici che osano costruire questa grande torre con la confusione delle lingue ma nell'antica mesopotamia la confusione delle lingue era una ricchezza culturale mostruosa e la traduzione fa proprio quello che si diceva prima con lo slogan del seminario di Udine vicino e lontano cioè prende quello che è lontano e lo fa diventare rivicino a noi salvo poi che una nuova traduzione ci fa capire magari che c'è un altro tipo di vicinanza no? la grande civiltà mesopotamica comincia con i babilonesi che traducono le opere dei popoli vicini e li prendono dei pezzi le incorporano è così che nasce il poema di Gilgamesh ed è così tra l'altro durante la cosiddetta prigionia babilonese che la Bibbia si arricchisce di storie meravigliose a cominciare dalla storia dell'Eden e quella dell'arca di Noè che sono miti mesopotamici che vengono poi assimilati e allora proprio questa capacità della traduzione è fondamentale in questo io non mi stupisco che alcune grandi opere del novecento prima citavo i cantos di Pound vengano fuori da un tentativo di traduzione che poi si ramifica in questo modo meravigliosamente sì complesso difficile è vero complesso difficile ma sono difficili cantos di Pound è difficile l'Ulisse di Joyce ma è anche difficile che so io se la si legge bene la Costituzione intendo quella americana soprattutto e l'aggiunta di Jefferson il Bill of Rights che anche quella sembrano poche norme ma sono pregnanti di problemi enormi o persino le storie di Topolino disegnate e sceneggiate da Gotherson Billy Walsh e gli altri suoi collaboratori peraltro grandi lettori di Joyce come è noto perché la maggior parte erano tutti degli Irish American ecco quindi è vero in questo senso Ulisse è difficile ma è difficile come è difficile ogni cosa che ci piace chi è che diceva Itz il bello è difficile mi pare che fosse proprio Joyce che lo diceva poi lo riprende Pound dopo che Itz ha scritto una terribile bellezza è nata per la rivolta del 1916 niente io non è che avrei più da dire se non due cose vorrei dedicare a Enrico che le conosce meglio di me ovviamente a Claudio che ha letto bellissimo questi brani e ci leggerà quello del monologo finale di Molly e a tutti voi sono due passi che io trovo anche qui profondamente dentro di me forse possono dire qualcosa a voi c'è un parallelo della donna e della luna nel penultimo capitolo di Ulisse che è il tuo splendido dove appunto la luna e la donna sono messe insieme come principio femminile unico grande tema bruniano tra l'altro grande tema degli eroici ed erotici furori di Giordano Bruno e quello che colpisce la riflessione di Bloom in questo momento è il potere della luna sulle acque defluenti e rifluenti sul flusso e riflusso sul mare la luna che è la luna di Dante quella che appunto il volgere della luna spazza liliti senza pose e così fa di Firenze la fortuna il famoso passo del canto sedice del paradiso e Firenze è come nelle maree trascinato di qui di là e come lo è Firenze lo è Dublino e come Dublino e l'Irlanda e come l'Irlanda è la nostra povera Europa ecco allora questo era un primo punto il suo splendore della donna se visibile la sua attrazione se invisibile grande omaggio insieme alla teoria della gravitazione di Newton e all'eterno femminino di Goethe messo insieme in questa semplice battuta dei pensieri notturni di Leopold Bloom l'altra cosa che proprio mentre sentivo leggere il bellissimo passo su Shakespeare della biblioteca prima proprio poche righe prima che si commenti Amleto e si commenti Otello e in particolare la storia dello Iago che desidera senza sosta la sofferenza di quel moro che vive già dentro di lui proprio in questo commento su Shakespeare c'è una frase che è bellissima che vi leggo dopo che vi dico un'altra cosa nel 1914 il pedagogista e uomo politico irlandese Patrick Pierce scrisse una serie di articoli che dovevano fornire alcune delle premesse teoriche poi dell'azione politica della fratellanza repubblicana irlandese quando decise di passare all'insurrezione armata appunto nel 1906 Patrick Pierce era un personaggio estremamente tormentato forse meno lineare del marseista Jim Connolly forse anche meno lucido nella sua lettura della società irlandese di quanto non fosse Connolly in alcuni dei suoi meravigliosi articoli ma Pierce ad un certo punto si rende conto drammaticamente che è difficile liberare un popolo se questo non ha il coraggio di buttarsi dentro la lotta e dice come faccio a convincere uno schiavo volontario a non essere più uno schiavo e la conclusione dice è pessimistica un popolo che non ha il coraggio di ribellarsi nemmeno Gesù Cristo col suo sacrificio lo potrebbe scuotere dopo tutto appunto quello di Gesù Cristo forse dice Pierce è stato un fallimento e tuttavia c'è una cosa che ci libera da questa schiavitù terminava Patrick Pierce è il riso il fatto che di fronte ai nostri nemici e anche ai nostri amici che non ci seguono siamo ancora capaci di ridere e qui c'è una battuta di Daedalus proprio poco prima che comincia il passo che lui ha letto dice rise per liberare la mente dalla schiavitù della propria mente ecco il riso che ad un certo punto nelle sue meravigliose ironia George si comunica è proprio il riso che libera la mente dalla schiavitù della mente Dio sa se c'è quanto ne abbiamo oggi bisogno amo i fiori mi piacerebbe avere tutta la casa piena zeppa di rose Dio del cielo non c'è niente come la natura le montagne selvagge poi il mare e le onde che si infrangono poi la campagna bellissima coi campi di avena e grano e ogni tipo di cose e quelle belle mandri in giro ti fa bene al cuore vedere i fiumi e i laghi e i fiori ogni forma e odori e colori che spuntano pure dai fossi le primule e le violette eccola la natura e quelli che dicono che Dio non esiste non ci faccio proprio niente con tutto il loro sapere perché non se ne vanno a cercare qualcosa gli ho spesso chiesto gli atei o come cavolo si chiamano perché non vanno a ripulirsi prima loro e poi si lamentano a più non posso pur di avere un prete e poi muoiono e perché? perché siccome hanno paura dell'inferno per la loro coscienza sporca ah sì li conosco bene chi era la prima persona dell'universo prima di ogni altro che ha fatto tutto ah non lo sanno e neanche io ecco più facile provare a fermare il sole prima dell'alba domani il sole splende per te ha detto lui un giorno che eravamo stesi tra i rododentri sul promontorio di Hoth con quel vestito di tweed grigio e il cappello di paglia il giorno che mi sono fatta fare la proposta sì prima gli ho passato quel pezzetto di torta e i semi di cumino direttamente dalla bocca ed era un anno bisestile come adesso sì sedici anni fa mio Dio dopo quel bacio lungo quasi mi mancava il fiato sì era un fiore di montagna ha detto sì siamo tutte dei fiori il corpo di una donna è un fiore sì la sola cosa giusta che ha detto in vita sua è il sole splende per te oggi sì è per questo che mi piaceva perché vedevo che capiva o sentiva quello che è una donna e sapevo che lo potevo aggirare quando mi pareva e gli ho dato tutto il mio piacere possibile per spingerlo finché non mi ha chiesto di dire sì e io prima non rispondevo guardavo solo il mare e il cielo stavo pensando a così tante cose che lui non sapeva Malvey e Mr. Stanhope e Esther e suo padre il vecchio capitano Groves e marinai che giocavano agli uccelli in volo e in china ti ti dico e lava piatti lo chiamavano sul molo e la sentinella davanti alla casa del governatore con quella cosa intorno al berretto bianco povero diavolo mezzo abbrustolito e le ragazze spagnole che ridevano nei loro scialli e i capelli pettinati in alto e le aste al mattino i greci e gli ebrei e gli arabi e lo sa soltanto il diavolo chi altri ancora da ogni angolo in Europa e Duke Street e il mercato del pollame un chiocciare continuo fuori dai larbysherons e i poveri asinelli che sdrucciolavano mezzi addormentati e quei tipi indistinti nei loro mantelli a dormire in ombra sugli scalini e le grandi ruote dei carri di buoi e il vecchio castello vecchio migliaia d'anni e quei bei mori tutti vestiti di bianco quei turbanti come i re che ti chiedevano di sederti nei loro negozietti e ronda con le sue vecchie sinestre delle posadas occhi brillanti una grata celava per il suo amante spagnolo che bacia il ferro e le vinerie mezze aperte di sera e le nacchere e la sera che abbiamo perso la nave ad Algesiras la sentinella avanti e indietro sereno col suo lume e o quel torrente profondo spaventoso o e il mare il mare cremisi a volte come il fuoco e gli splendidi tramonti e gli alberi di fico nei giardini della Lameda sì e tutte quelle stradine strane e le case rosa e blu e gialle e i giardini delle rose e il gelsomino e i gerani e i cactus e Gibilterra da ragazza dove ero un fiore di montagna sì quando mi sono messa la rosa nei capelli come facevano le ragazze andaluse o dovrei portarla rossa sì e come mi ha baciato sotto le mura amoresche e ho pensato beh lui o un altro che cambia e poi gli ho chiesto con gli occhi gli chiederlo ancora sì e poi me l'ha chiesto se volevo sì dire sì mio fiore di montagna e prima l'ho abbracciato sì e l'ho fatto stendere su di me per fargli sentire i miei segni tutti profumati sì e il suo cuore che impazziva e sì ho detto sì lo voglio sì applausi 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 applausi